...menzione Master Accademia, secondo classificato area mercato di competitività per il rafforzamento delle competenze dei lavoratori e l'approccio virtuale e multifunzionale in ambito formativo. Stiamo parlando di Brembo per il progetto Manufacturing Academy. Abbiamo Luciana, io conosco parecchi di voi perché avete frequentato i nostri gruppi di valutazione questo autunno, Luciana Parazzi. Una parola, ti porgo microfono poi facciamo una foto un po' più a sinistra, qua così va bene, grazie. Perfetto, grazie Luciana. Allora, buongiorno a tutti e grazie, prima volta di Brembo in AIP, primo progetto che presentiamo. Complimenti, avete azzeccato la prima. Grazie. La Manufacturing Academy è nata quando con l'avvento della 4.0 ci siamo accorti di avere già all'interno dell'azienda molte competenze e quindi abbiamo formato docenti interni perché distribuissero e condivessero le competenze con i colleghi. Per cui abbiamo ragazzi quasi neolaureati con fortissime competenze che hanno fatto da docente a persone invece più mature, così come poi viceversa persone invece con una grande esperienza in robotica e quant'altro che formavano persone più giovani. Quando ci siamo accorti di aver bisogno di volere anche un punto di vista esterno ci siamo fatte aiutare dal mondo della ricerca, quindi posso citare Politecnico di Milano che è venuto con i propri docenti, abbiamo coprogettato i corsi e li abbiamo distribuiti all'interno dell'azienda. Questi sono corsi worldwide, tutte le sedi di Brembo a livello mondiale, dalla Cina all'America, Repubblica Cieca e Polonia per quanto riguarda l'Europa la stiamo portando. Voglio ricordare un altro fatto che avevate introdotto anche il materiale fisico in cui sono fatti i vostri attrezzi per quanto riguarda come supporto ai corsi di formazione. Assolutamente sì, i corsi sono stati fatti proprio direttamente nelle fabbriche, nei nostri reparti, utilizzando proprio i nostri strumenti e usando la ricerca Brembo per la ricerca, in questo caso nell'ambito della formazione, quindi abbiamo formato in Italia quasi 600 persone e l'obiettivo è di formare tutta la famiglia della manufacturing Brembo Mondo nell'arco di 2-3 anni al massimo. Grazie, grazie Luciana. Grazie.